Il comune di Angri è interessato ad acquistare le quote del CSTP rimaste senza titolare. L'indiscrezione è confermata direttamente dal commissario liquidatore del consorzio Mario Santocchio, secondo il quale le restanti partecipazioni inattive verranno poi divise tra i due soci di maggioranza, e cioè provincia e comune di Salerno. Più precisamente l'amministrazione Maule metterebbe le mani su ulteriori 335 azioni, gli altri due enti su circa 12.000, le restanti da dividere equamente tra i due. La partita si chiude il 9 settembre, poi la parola passerà al commissario giudiziale, il professor Raimondo Pasquino, che dovrà redigere una relazione di accompagnamento all'istanza di amministrazione straordinaria. Martedì riunione con i sindacati, all'ordine del giorno ipotesi di cassa integrazione per il personale di guida. Lo auspico che la società venga ammessa all'amministrazione straordinaria, si tratta di un'importante società, è una società che ha tutti i requisiti per essere ammessa all'amministrazione straordinaria e per scongiurare il licenziamento. Dal mio canto in questi giorni sto garantendo il servizio, ovviamente facendo conto con quello che è la crisi finanziaria dell'azienda e garantendo ai lavoratori i loro diritti.